Nel 1747 un gruppo di cremonesi decise di affidare la costruzione di un teatro all'architetto Giovanni Battista Zeist. L'edificio però non ebbe vita lunga. Nel 1806, a seguito di un incendio, venne distrutto come spesso accadeva a quei tempi, viste le costruzioni completamente in legno e la presenza di fiaccole al posto della luce elettrica. A quel punto venne affidata la ricostruzione ad un altro architetto, Luigi Canonica. È bruciato due volte questo teatro, quindi non è più la versione originale ovviamente del primo spazio, ma è un teatro nelle forme ottocentesche, per seconda mano quella di Luigi Canonica, che è stato il secondo architetto, il primo Giovanni Battista Zeist, poi dopo i due incendi. L'ultimo rimaneggiamento è di Luigi Canonica, allievo del Piermarini, quindi ricorda un po' anche la scala di Milano, ricorda anche Canonica è stato l'architetto della Villa Reale di Monza. La dimensione di questo teatro, che è 1824, la versione attuale quindi ottocentesca, sono 1200 posti, possiamo dire il secondo teatro della Lombardia come dimensione, uno dei più importanti, più grandi in Italia. Una lunga storia che permetterà così l'inserimento del teatro Ponchielli nella prestigiosa lista. È un progetto di legge che ovviamente ha avuto il suo primo passaggio alla Camera, adesso dovrà andare al Senato, non so se ci saranno degli emendamenti, delle modifiche, delle ulteriori integrazioni rispetto a questo elenco, però diciamo prevede, questo progetto di legge, un'istituzione di un elenco di teatri storici che devono essere riconosciuti in Monumento Nazionale. Questo non comporta nessun riconoscimento economico per i teatri, ma semplicemente una piccola targhetta di prestigio per quanto riguarda l'edificio storico, un po' come succede per tanti altri monumenti italiani, dalla Torre di Pisa al Colosseo, quelli che sono i monumenti nazionali più importanti e quindi diciamo una maggior tutela da parte delle belle arti e degli organismi che sono preposti a questo tipo di operazioni di tutela e di preservazione ovviamente del patrimonio nazionale. Siamo stati inclusi in questo elenco ieri per iniziativa di alcuni parlamentari del territorio e qui sta è anche l'occasione per ringraziarli. Vediamo il percorso della legge e quando sarà approvato, se questo elenco verrà confermato e se ovviamente si allungherà ancora l'elenco attualmente dei 408 teatri italiani riconosciuti in Monumento Nazionale.